Un saluto a tutti gli appassionati di Nero Verde Channel e a tutti i tifosi neroverdi dallo stadio Giovanni Provasi di Castellanza, la casa della castellanzese. Continuiamo con la presentazione dei nuovi gioielli che sono andati ad arricchire la rosa già prestigiosa dell'USD castellanzese 1921. Io oggi sono in graditissima compagnia di Luca Arrigoni. Ciao Luca, benvenuti ai nostri microfoni. Ciao, benvenuti a tutti. Centrocampista esterno dalla vocazione offensiva ma anche efficacissimo in fase difensiva. Giusto Luca, ho dato il tuo profilo. Questo è corretto. Un centrocampista fortemente voluto dalla dirigenza Nero Verde e soprattutto da Mr. Palazzi. Quindi io ti chiederei Luca, come prima domanda, come tua presentazione, che tipo di centrocampista è Luca Arrigoni? Cioè che cosa ti contraddistingue qui su questo rettangolo verde dove chiaramente tutto il popolo Nero Verde è pronto ad ammirare le tue geste atletiche? Ma intanto vi faccio un benvenuto a tutti. Io sono un giocatore d'utile, ho diverse caratteristiche. Posso fare il centrocampista esterno, posso fare il difensore esterno, posso giocare anche un pochettino più avanzato. Insomma ne ho fatte, diciamo, di diversi ruoli. Un po' di tutto. E niente, come caratteristiche ho sicuramente la corsa e poi anche la qualità che è una cosa che secondo me è fondamentale. Quindi qualità e adattibilità che tra l'altro fanno rima non a caso queste due caratteristiche fondamentali del tuo modo di giocare. Luca, io come seconda e ultima domanda ti chiedo, tu hai parlato giustamente della capacità di fare un po' di tutto, tu l'hai detto, sei il classico giocatore a tutto campo. Ecco, io ti volevo chiedere questo. Quanto sarà importante in questa stagione impegnativa che aspetta tutta la castellanzese davvero l'adattabilità, la capacità di dire faccio quello che c'è bisogno per la squadra senza dire non è il mio ruolo naturale, ma semplicemente mi adatto a seconda di quelle che sono le necessità. Quindi la capacità di proprio mettersi in campo al 101% al servizio della squadra. Secondo me è fondamentale in tutte le categorie perché la capacità di adattarsi non è facile. Tutto al più quando poi i momenti diventano importanti come, non so, alcune partite delicate o tanti altri momenti della stagione, avere la possibilità di coprire anche più ruoli è una cosa secondo me fondamentale. Luca, io ti ringrazio della tua disponibilità, ancora rinnoviamo a Luca Arrigoni il benvenuto da parte di tutto il mondo Neroverde, da parte di tutta Neroverde Channel. Ci vediamo in campo per i primi impegni stagionali. Luca, grazie mille e benvenuto tra noi. A presto e ciao a tutti.